E adesso proseguiamo con gli ultimi due talk, Sara Abate. Allora, buongiorno a tutti. Io mi chiamo Sara Abate, ma online tutti mi chiamano Double perché ho fondato la mia azienda cosmetica che si chiama Double B. E sono una figura un po' strana, nel senso che non sono un imprenditore, ma sono una solopreneur. Mi dicono dalla regia di tenere il microfono più vicino alla bocca. Mi sentite? Sì. Sono, dicevo, una solopreneur, cioè non il classico imprenditore che ha l'SRL e ha la fabbrichetta, ma una SRL sicuramente, che però non ha tutta la struttura aziendale. Il che significa che ciao, sono il magazziniere, ciao, sono l'ufficio stampa e ciao, faccio la comunicazione. Inclusi tutti i video che riguardano la promozione della mia azienda e dei miei prodotti. E come ho iniziato a fare i video? Per questo ho avuto l'idea di fare questo speech, perché avevo paura della telecamera e me la sono fatta passare e ho pensato di condividere con voi le mie strategie. Come ho iniziato a fare i video? Mi hanno costretta, molto semplicemente. Una carissima amica che fa la Growth Hacker di lavoro mi ha detto diversi anni fa, da bolina tu devi iniziare a fare i video. E per convincermi mi ha messa seduta davanti a una telecamera, si è seduta accanto a me e abbiamo iniziato a fare delle dirette su Facebook insieme. Quindi sono stata costretta, poi ci ho preso gusto, ho abbandonato la balia e adesso li faccio da sola. E ti voglio raccontare per quale motivo dovresti farli anche tu, anche se non ti va. Queste sono tutte le motivazioni. Perché il video marketing converte? Perché metterci la faccia significa conquistare la fiducia del tuo pubblico? Perché nel 2020 l'82% del traffico internet sarà generato dai video? Questo non lo dice Double, non lo dice Cisco. Perché l'algoritmo penalizza di meno i video? Ovviamente mi riferisco a Facebook e Instagram, ma se ci avete fatto caso, i nuovi formati video, quando sono uscite le dirette su Facebook, erano molto meno penalizzate dei post. Quando sono uscite le IGTV su Instagram, erano molto meno penalizzate dei post tradizionali. Le stories stesse seguono ancora un ordine cronologico, cosa che i post non fanno. Quindi hanno proprio più visualizzazioni, hanno una reach migliore. Perché sono un formato versatile, quindi ci potete fare qualunque cosa, dai tutorial alla promozione spinta. E ovviamente per spirito di solidarietà hanno costretto me, non vedo perché voi ve la dobbiate scampare. Le obiezioni più comune. Io queste me le sono ripetute nella testa più volte, quindi sono sicura che tutti quelli che ancora non stanno facendo video per promuovere la loro attività, si dicono queste cose in testa. Non so che dire, mi impappino, non mi piaccio. Chi vuoi che veda questo video, non sono un videomaker professionista, e la mia preferita, il mio settore non è adatto ai video. Lo dico da moglie di avvocato, è sbagliato. Vorrei che i professionisti freelance più tecnici, io faccio beauty quindi è facile parlare di cose frivole e divertenti, vorrei che i professionisti più tecnici, gli avvocati, i commercialisti, gli ingegneri, facessero molti più vito per spiegare a chi non è addetto al settore tutte le bellezze della loro professione, eccetera, eccetera, aggiungete le obiezioni che volete. La verità è che, mi ero dimenticata che l'ordine fosse questo, la verità è che è solo questione di abitudine, e non lo dico tanto per dire, tanto per, sai, le cose un po' new age, usci dalla tua comfort zone, no. Il tuo cervello, quando fai un video, deve proprio adattarsi a un'immagine che non riconosce. Dice, ok, sono io, ma non sono io. Primo, perché se usi la fotocamera del telefonino, hai l'immagine rovesciata. Infatti, avrete notato sicuramente che chi fa le stories su Instagram o le dirette utilizzando appunto la fotocamera frontale, ha le scritte sulla maglietta sempre al contrario. Quindi il tuo cervello vede la destra a sinistra e la sinistra a destra, e non si riconosce. Secondo, perché la telecamera deforma, sì, è vero, la tv ingrassa. Terzo, perché metti tutti i difetti in evidenza, quindi se sei, alzo la mano, fissata sul fatto che hai le occhiaie, in video le vedi ancora di più. E poi perché hai anche le variazioni di colore. Il motivo per il quale il make-up televisivo è molto più pesante di quello che ti faresti abitualmente di giorno è proprio perché il video schiarisce tutti i colori. Quindi se tu vai nel dietro le quinte di un programma televisivo, vedi i conduttori e le conduttrici, anche gli uomini vale, truccati come se fossero a Carnevale Rio probabilmente. e invece in schermo sembrano delle persone normali. Più video fai e più il tuo cervello si abitua a quello che vede, ma anche a quello che sente, perché la voce registrata ovviamente non è la voce che noi sentiamo all'interno della nostra scatola cranica. Noi sentiamo una voce che rimbomba all'interno della scatola cranica, quindi anche la voce non è la nostra. Più fai video, più il tuo cervello si abitua. Vi ho convinti? Molto bene. Cosa vi serve a questo punto? Passiamo alla parte pratica. Oggi ho diviso l'attrezzatura necessaria in tre categorie, obbligatori, optional e assolutamente inutili. Vi serve ovviamente una telecamera. Potete usare il telefonino, una camera professionale, la webcam del computer, qualunque cosa faccia video. Vi serve della luce e quella naturale è la migliore, quindi se avete una finestra siete a cavallo e non lo dico tanto per dire. Vi serve un minimo di trucco e parrucco. Questo vale anche per gli uomini. Non dovete impuparvi come se stesse andando a un matrimonio, ma presentarsi in maniera gradevole davanti all'obiettivo è una cortesia che state facendo al vostro pubblico. quindi no ai video in pigiama, no ai video dove non vi siete neanche pettinati, perché non è carino nei confronti delle persone che state invitando dentro il vostro spazio a casa vostra, perché il video alla fine è casa vostra e se io invito una persona a casa mia cerco di farmi trovare quantomeno vestita e con i denti lavati. Optional, un microfono vi può aiutare per avere un suono migliore, ma se avete una stanza abbastanza silenziosa non è che vi serve tantissimo. Delle luci artificiali per integrare la luce naturale e se volete un backdrop. Quello che proprio non vi serve, quindi non vi dite farò i video quando avrò, non vi serve il makeup artist professionale, non vi servono i pannelli fonoassorbenti, non vi serve uno studio di registrazione, non vi serve un aiuto alla regia e non vi servono neanche gli occhi azzurri anche se sarebbe molto bello averli purtroppo non li abbiamo ereditati dalla nonna. Quindi tutte quelle altre scuse che vi state facendo nella testa ah non posso fare video perché sono scuse come dice Zelda was a writer. Adesso vi dico che cosa uso io. Io giro dentro casa con un'attrezzatura veramente minimal comprata online che comprende un cavalletto di questi qui telescopici che ha anche il telecomandino per collegarlo col bluetooth al telefono. Molto utile se lo usate per fare le foto serve a niente se fate i video. Ho iniziato con due fari di quelli lì centrali a ombrello e qui la scelta della luce dipende un pochettino dal tipo di set che avete in mente e dal tipo di video che avete in mente. Se avete un'inquadratura ampia i due fari e dico due perché se ne mette uno a destra e uno a sinistra per non avere coni d'ombra sul viso i due fari vi servono per illuminare bene l'ambiente. Se come me fate dei video dove la faccia si deve vedere molto molto bene ed è anche vicina allora meglio passare al ring che vi fa risparmiare anche il cavalletto perché ha l'attrizzino per tenere il telefono o per avvitarci sopra la camera. Io ho tutto quanto di solito uso il ring francamente. Cosa dico? Grande problema e qui la tecnologia mi è venuta in aiuto. Vi ricordate la scusa mi impappino? Ecco risolviamo teleprompter. Io uso questo perché uso il telefonino di app e software che fanno da teleprompter che sarebbe sostanzialmente il gobbo ce ne stanno tantissime. Questa ce l'ho sul telefonino sia per iOS che per Android si chiama Big V e vi ho messo una slide per farvi vedere come funziona. Qui a sinistra avete la schema iniziale cioè la app copiate e incollate il testo che vi siete scritti precedentemente premete quel simbolino rosso a forma di telecamera e lui automaticamente vi apre la fotocamera frontale del telefono e vi fa scorrere in sovraimpressione decidete voi la velocità alla quale parlerete vi fa scorrere in sovraimpressione il testo la vicinanza tra il testo che scorre e l'obiettivo frontale del telefonino fa sì che voi state leggendo ma sembra che stiate guardando perfettamente in camera è molto molto comodo soprattutto se avete paura di trovarvi davanti alla telecamera e dover ricominciare perché non mi ricordo succede non è niente di grave però questo aiuta e si fa prima tra l'altro vi dice anche il minutaggio quindi sì c'è scritto qua sopra vedete questo testo tutto il testo due minuti e 46 quindi sapete anche quanto durerà più o meno il vostro video e potete valutare se è più o meno lungo cosa dovete fare prima di iniziare a girare intanto dovete controllare l'inquadratura perché ci sono delle cose che all'occhio danno fastidio e quindi se potete evitarle prima di iniziare a girare fate un favore al futuro spettatore è dritta l'inquadratura non c'è niente di peggio di un'inquadratura storta quindi usate la griglia della fotocamera per verificarlo verificate di essere inquadrati bene di essere al centro dell'inquadratura o se volete fare una cosa un po' più creativa sul primo terzo o sul secondo terzo ma non vi fate tagliare a metà evitate gli sfondi troppo confusi evitate gli oggetti che vi pendono sopra la testa e state molto attenti ai riflessi se avete scelto una parete o una libreria dove ci sono dei quadri delle fotografie delle superfici riflettenti è sicuro che il riflesso vi rovinerà il video e che farà vedere magari appunto il ring che state usando le luci che state usando quindi se proprio vi piace quello sfondo almeno togliete i vetri e gli specchi altra cosa che dovete controllare prima di iniziare a girare è la luce non volete avere ovviamente ombre sul viso quindi volete essere o perfettamente dritti davanti alla sorgente di luce oppure nel cono di luce che si crea tra le più le diverse fonti di luce che avete scelto potete mettere una luce di sfondo che è molto carina e dà una sensazione di profondità che ne so una lampadina in lontananza delle lucine in lontananza quelle lucine che non mettiamo mai via e le teniamo tutto l'anno non solo a Natale e poi soprattutto controllate di non essere sovraesposti perché di solito la vostra inquadratura è perfetta anche dal punto di vista di illuminazione ma nel momento in cui iniziate a girare la camera si autoregola la luminosità e voi improvvisamente diventate Casper fantasma bianco quindi fate una prova non iniziate subito così spariti avete girato meraviglioso dovete montare anche qui per il montaggio ci stanno una marea di app e di programmi che potete usare sul computer io uso visto che giro con il telefonino monto anche con il telefonino uso InShot altra app gratuita sia su iOS che su Android e mi ci trovo molto bene perché mi consente di fare tutta una serie di cose cambiare ad esempio la tela cioè ho fatto un video verticale lo voglio far diventare quadrato me lo fa lui applicare dei filtri regolare l'illuminazione regolare la velocità del video quindi ve la consiglio è carina è fatta bene c'è ovviamente la versione light qualche dritta in ordine sparso uno guardate nell'obiettivo e non nello schermo lo so che è la tentazione più comune quella di guardarsi nello schermo perché è come se stessimo parlando con qualcuno cioè con noi stessi però dovete veramente prendere l'abitudine di guardare l'obiettivo anche se vi suona strano l'obiettivo non mettetelo ad altezza occhi mettetelo un pochino più in alto del vostro sguardo non è che vi dovete far riprendere dall'alto come se fossero gli alieni però un pochino più alto questo vi costringerà a tenere il mento leggermente più alto e è un trucchetto che sfina il viso e non fa l'effetto doppio mento che voglio dire aiuta no? ricordatevi di sorridere mentre parlate parlate piano cosa che io non ho fatto adesso in preda all'emozione e scandite bene perché la velocità la potete sistemare al montaggio questo è un trucchetto molto utile se dovete fare dei video in lingua straniera perché magari dovete fare un video in inglese e non siete fluent come in italiano allora se fate un video in lingua straniera parlate più lentamente scandendo molto bene e poi aumentate la velocità al montaggio del 10% così quelli che vedono il video diranno mazza questa come parla inglese se fate un'altra se fate una diretta se fate un video in diretta coraggiosoni usate un altro supporto per leggere i commenti perché fare così avanti e indietro per leggere i commenti che scorrono sullo schermo che state utilizzando per registrare è bruttissimo e manda fuori fuoco la telecamera quindi vi tenete un altro telefonino un ipad un computer vicino e non fate questo movimento e infine trovate la tua palette di colori lo dico anche ai maschietti abbiamo tutti dei colori che ci stanno meglio e dei colori che ci stanno meno bene io ad esempio ho scoperto che vicino al viso devo mettere chiaro e caldo quindi quando vado in video cerco sempre di avere il bianco l'avorio la panna il rosa chiaro vicino al viso perché mi sta bene se metto il nero sembra che sono appena uscita da una settimana di malattia vale anche per gli omidi perché Kennedy ci ha vinto le lezioni con una camicia bianca e un po' di abbronzatura quindi fate mente locale su quali sono i colori che vi stanno meglio domande? ce l'ho il tempo per le domande vero? qualche domanda se c'è ce l'abbiamo il tempo e altrimenti ne parliamo domanda quando va il teleprompter quindi stai leggendo non ti vedi in viso l'app ti fa solo leggere quindi risolvi automaticamente il problema ti vedi tutto ti vedi perché la scritta passa in sovraimpressione sull'inquadratura quindi tu comunque ti vedi però certo hai l'immagine coperta da questo testo che scorre verso l'alto grazie a tutti grazie davvero grazie a tutti